Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi un nuovo video a tema dipendenze estive perché la mia nuova dipendenza è Vinted e no ragazzi, non compro vestiti usati. E ragazzi, prima di cominciare però vi ricordo che su Pampling, utilizzando il mio codice sconto 7Potter adesso avrete diritto ad un paio di calzini nerd in omaggio con ogni acquisto, qualsiasi acquisto di qualsiasi importo e inoltre il codice è compatibile con tutte le offerte in corso su Pampling. E poi trovate anche il mio link Amazon in infobox alla mia vetrina dove in collaborazione con Amazon ho una vetrina con tantissimi prodotti a tema nerd e Harry Potter che ho già recensito qui ma anche non Harry Potter come libri, fumetti, trono di spade, giochi da tavola e qualsiasi altra cosa tutto sotto in infobox. Per ogni acquisto fatto tramite il mio link anche di cose non presenti nella mia vetrina Amazon mi riconosce una piccolissima percentuale che mi aiuta a mantenere il canale quindi grazie d'anticipo a chi utilizzerà i link per acquistare su Amazon. Detto questo, ragazzi, oggi vi parlo di Vinted. Vinted è un'app che è molto pubblicizzata in questo periodo in televisione e che io avevo sottovalutato alla grandissima perché in tv si parla di vestiti usati sembra un'app molto femminile dedicata alle donne sembra un'app dedicata a borse, accessori e vestiti ma in realtà c'è tutto un sottomondo un pochino oscuro e vi spiego il perché. In poche parole, Vinted è un sito o nel mio caso un'app, visto che l'ho sempre usato tramite app che vi permette di vendere cose usate vestiti usati ma all'interno delle categorie è possibile scoprire che si possono vendere anche giocattoli ebbene ragazzi, giocattoli è talmente vago come gruppo all'interno del quale potete mettere praticamente qualsiasi cosa che sia anche vagamente giocattolo come ad esempio i Funko Pop sono giocattoli Harry Potter tutto quello che riguarda Harry Potter è considerato giocattolo ma anche tantissimi altri fandom Marvel sono giocattoli action figure della Marvel, anche molto costose sono considerate giocattoli quindi ragazzi, giocattoli è un termine un pochino vago che loro hanno inserito secondo me anche sapendo a cosa andavano incontro infatti io inizialmente mi ero imposto di vendere su Vinted alcune cose che non utilizzavo più alcune cose da collezione Funko Pop eccetera eccetera sorprese del McDonald's, un po' di tutto e mi ero imposto di non comprare infatti non guardavo mai nulla ho venduto, ho venduto anche parecchio perché è molto molto semplice vendere su Vinted si mette il prezzo, si mette la foto, si sceglie la categoria e si sceglie la dimensione del pacchetto piccolo, medio o grande una volta che una persona acquista dal vostro negozio chiamiamolo così ma più che altro è un armadio ogni volta che una persona acquista in automatico quella persona acquista anche la spedizione tramite Vinted vi arriva la bolla via email da stampare la stampate, fate il vostro pacchetto, attaccate la bolla e la portate al punto di ritiro UPS o poste, bisogna vedere quello che sceglie chi acquista si lascia lì una volta che il pacco arriverà a destinazione verrà prelevato dall'acquirente nel suo punto di ritiro l'acquirente aprire il pacco verificherà che è tutto ok una volta che avrà verificato che è tutto ok vi verranno addebitati i vostri soldi quindi io vi dirò nel giro di circa un mese e mezzo ho tirato su qualcosa come 300 euro su Vinted vendendo roba che era ferma a casa parcheggiata e che avrei probabilmente buttato ad un certo punto quindi soldi praticamente regalati non ci sono commissioni su Vinted il prezzo che mettete è quello effettivo sono quelli soldi che vi verranno dati la spedizione se la becca tutta chi compra l'acquirente quindi zero pensieri una volta arrivato il pacco viene confermato e se la persona non conferma entro due giorni che tutto è andato bene in automatico Vinted darà per scontato che tutto è andato bene quindi vi daranno i vostri soldi che poi potete o spendere su Vinted o trasferire sul vostro conto corrente purtroppo io mi era imposto di non comprare su Vinted di vendere, liberarmi di tutto quello che non mi serviva ma di non acquistare altra roba ma purtroppo una sera preso dalla noia ho cominciato a spulciare la bacheca di Vinted ho inserito le due parole magiche Harry Potter e ragazzi mi è venuto fuori l'ira di Dio ho cominciato ad acquistare roba, fare affari uno dietro l'altro ho acquistato di tutto e la cosa bella è che non si acquista solo dall'Italia ma si acquista e si vende anche in Spagna, in Francia, in Belgio e credo da poco anche in Germania quindi all'interno di Vinted trovate articoli venduti da tutti questi paesi e gli acquirenti sono anche di quei paesi quindi voi con 3,50€ potete acquistare dalla Francia o dalla Spagna o dall'Olanda e a loro volta un francese può acquistare da voi pagando 3,50€ di spedizione perché? Ebbene sì, la spedizione piccola e media costano solo 3,49€ quella grande credo costi 4,50€ quindi voi potete acquistare qualcosa dalla Francia pagando solo 4,50€ o 3,50€ di spedizione e a loro volta loro potranno acquistare dall'Italia questi prezzi quindi ragazzi è super super vantaggioso io non ho trovato nessuno svantaggio in Vinted ho già ricevuto moltissime recensioni tutte a 5 stelle le ho lasciate anch'io tutte a 5 stelle perché ho ricevuto sempre tutto non ho avuto mai nessun intoppo, nessun problema anche perché io quando qualcuno compra da me ho super fretta di spedire le cose in modo che arrivino presto e mi diano i soldi e la stessa cosa vale per chi è dall'altra parte che ha tutto l'interesse di appunto spedire velocemente quando io acquisto perché altrimenti non vedrà mai i suoi soldi e ragazzi ho cominciato ad acquistare cose molto molto interessanti che adesso vi farò vedere dopo tutto questo lungo preambolo ma per me era doveroso darvi un po' un'infarinatura su cosa sia Vinted e che non è solamente abiti usati e ragazzi adesso aprirò qui un po' di cose con voi in realtà molte sono già aperte perché appunto dovevo confermare che tutto fosse andato bene e dovevo per forza verificare che la merce fosse quella che avevo acquistato quindi in questo caso sono quasi tutti aperti tranne uno che invece è arrivato giusto questa mattina e quindi non l'ho ancora aperto ragazzi ho anche acquistato molte cose a teme Harry Potter perché voglio fare un albero di Natale quest'anno a teme Harry Potter quindi mi servono cose da utilizzare come decorazioni e ho acquistato anche in questo caso un bel po' di cose e ad esempio qui dentro abbiamo questo pacchetto arriva dalla Francia e abbiamo due portachiavi originali che io ho acquistato per soli 3 euro e ragazzi ho acquistato questo portachiavi qui che è originale, ufficiale Warner Bros del giratempo o della giratempo fate voi che ho intenzione di smontare quindi eliminerò questa catena con l'anello e poi metterò un nastrino per poterla appendere all'albero di Natale quindi questa prima decorazione ufficiale del mio albero di Natale e poi era inclusa anche questa boccettina qui portachiavi di Hogwarts che si illumina questa non so se la utilizzerò però l'ho acquistata perché era assieme a questo portachiavi per 3 euro ho acquistato questo bundle e ragazzi questo è un portachiavi di Noble Collection non ve l'ho detto quindi costa circa 13-14 euro su Amazon solo questo portachiavi qui ma naturalmente è usato tra virgolette ma è perfetto come nuovo non c'è la scatolina ma chi se ne frega e adesso andiamo avanti qui dentro cosa c'è? vediamo oh questo molto molto interessante anche questo arriva dalla Francia è usata moltissimo lì in Francia quest'app e si tratta di questa spilletta lenticolare che spero riusciate a vedere che c'è scritto Potter Stinks quindi Potter Puzza è la spilla del Torneo 3 Maghi che viene distribuita tra gli studenti di Hogwarts quando si pensa che Harry abbia barato nel mettere il suo nome nel calice di fuoco e poi c'è su Porta Cedric il nostro vero campione quindi questa è una spilletta che io avevo visto perché si trovava all'interno di una box inglese quindi una di quelle box tipo Windsor Dream Box e cose del genere e l'unica cosa carina che c'era all'interno di quella box all'epoca era proprio questa spilletta che mi è piaciuta molto volevo tantissimo e quando l'ho trovata per ragazzi 1,50 euro io l'ho presa l'ho presa subito e in questo caso la spedizione credo fosse addirittura meno di 3,50 non ricordo forse addirittura 2,50 non so perché ma ragazzi la dovevo prendere per forza e quindi questa va dritta nella mia collezione ma non finisce qui perché su Vinted trovate anche tanta tanta roba di Noble Collection e infatti io ho acquistato questo che su Amazon costa 69 euro e io l'ho pagato solo 20 euro sapete come? perché intanto era stato messo in vendita a 35 ed è possibile fare delle proposte a chi vende che può accettare o rilanciare o declinare nel mio caso avevo proposto 30 euro e la proposta mi è stata accettata ma avevo anche un buono da 10 euro perché adesso vi lascerò il mio link affiliato o amico perché lo potete avere anche voi in infobox e voi scaricando l'app tramite il mio link o comunque scrivendogli al sito tramite il mio link mi darete 5 euro a me una volta che avrete caricato 3 oggetti da vendere e quando venderete uno dei vostri oggetti Vinted mi darà 10 euro da poter spendere su Vinted su un altro acquisto e se voi scaricate l'app tramite questo link anche voi otterrete il vostro link amico da poter dare ad altre persone e anche queste altre persone se scaricheranno l'app e caricheranno 3 oggetti da vendere vi faranno guadagnare 5 euro ogni volta che accadrà questa cosa e quando faranno la loro prima vendita che ragazzi di solito avviene nel giro di 24 ore vi daranno altri 10 euro da spendere su Vinted quindi ragazzi super super vantaggioso e io utilizzando un buono da 10 euro perché avevo fatto iscrivere dei miei amici l'ho pagato solo 20 euro e si tratta delle decorazioni natalizie di Noble Collection e sono i 5 stemmi delle case di Hogwarts nel senso sono le 4 case di Hogwarts e lo stemma generale della scuola sono in metallo e ragazzi sono davvero molto molto belli chiamo se riesco a farvene vedere uno eccolo qui tutto in metallo questo è quello di serpeverde da entrambi i lati e sono da appendere all'albero di Natale abbiamo anche quello di Hogwarts quello di Grifondoro Corbonero e Tasso Rosso sono molto pesanti sono molto molto belli e anche molto costosi ma io li ho pagati solo 20 euro su Vinted e ragazzi trovate tantissima tantissima roba di Noble Collection ad esempio ho trovato anche questa che è l'unica cosa che mi interessava della Artifact Box di Harry Potter di Noble Collection sono quelle box che contengono tante repliche di oggetti cartacei del mondo di Harry Potter esiste quella di Harry quella di Ron e quella di Hermione e in quella di Harry è presente una foto lenticolare che è l'unica cosa che non ho che mi serviva e l'ho trovata in vendita anche in questo caso dalla Francia sì l'ho trovata in vendita per 2 euro ragazzi 2 euro eccola qui si tratta della foto lenticolare dell'ordine della Fenice originale questa si trova solo all'interno di quella box sembra sporca ma è fatto di proposito è proprio così stampata sporca e ragazzi eccola qui 2 euro e mi sono invitato di acquistare l'intera box che costa 40 euro a volte 35 dipende dalle offerte del momento altra cosa recuperata da una box è questa qui che si trovava in una delle loot crate di J.K. Rowling e questo oggetto mi piaceva lo vedevo da tempo questo arriva dall'Italia invece e l'ho pagato 10 euro che secondo me è un prezzo onesto visto che su eBay si trova almeno comprese le spedizioni a circa 25 28 euro quindi io l'ho pagata 13,50 euro comprese le spedizioni quindi la metà e si tratta di questa box con il ritratto lenticolare di Ariana Silente eccolo qui come potete vedere è tratto dal film abbiamo questa cornice che è quella che troviamo alla locata a testa di porco e poi all'interno si può anche appendere al muro c'è il gancetto e all'interno l'apriamo ed ecco che troviamo due ganci per appendere le chiavi e all'interno un'immagine della stanza delle necessità quindi va un po' a riprendere l'ultimo film della saga mi è sempre piaciuta è fatta in legno è molto molto bella e quando l'ho vista lì in vendita per soli 10 euro ragazzi è partito subito il click compulsivo e l'ho acquistata ma vi giuro che io a volte non entro all'interno dell'app per giorni e giorni proprio per evitare di acquistare perché è una tentazione continua e poi ho acquistato sempre dall'Italia in questo caso questo libro che probabilmente era venduto da una persona che non non era interessata a Harry Potter non sapeva neanche cosa fosse e si parla di un libro pop up questo è il grande libro gioco tridimensionale è stato è edito da il battello a vapore quindi parliamo di tantissimi tantissimi anni fa infatti questa è un'edizione del 2002 quindi questo libro ha quasi 20 anni e ragazzi è molto molto bello abbiamo qui la signora grassa con all'interno il nostro trio e poi andando a sciogliere questi laccetti qui sui bordi guardate che sciccheria a me piace tantissimo perché comunque queste grafiche sono proprio iconiche del primo merchandising di Harry Potter abbiamo Hogwarts pop up all'interno ecco qui che abbiamo ad esempio la cerimonia dello smistamento oppure abbiamo ancora qui la sala comune di Grifondoro e sotto abbiamo anche il piano inferiore con il tavolo e gli scacchi oppure qui andando avanti abbiamo la sezione proibita quindi con i libri la biblioteca di Hogwarts io lo trovo davvero molto molto bello qui abbiamo ad esempio le prove che portavano alla pietra filosofale ragazzi è un libro molto molto ben fatto di buona qualità come non fanno più adesso e poi mi ha anche inviato gentilmente tutti i vari personaggi che vanno a completare questo libro quindi abbiamo Hagrid abbiamo Professor Raptor abbiamo tutti i vari personaggi della saga abbiamo Silente tutti con questo stile che appunto è quello dei primi anni 2000 tutto il merchandising era in questo stile qui che sinceramente preferisco rispetto a quello attuale che utilizza quei personaggi con le teste tonde che sinceramente sto odiando e spero passino velocissimamente di moda e questo volume che io ho pagato circa 12 euro più le spedizioni su ebay non si trova a meno di 40-50 euro e addirittura non hanno neanche tutti i personaggi che mi sono stati inviati qui all'interno di questa busta quindi sprovvisto di personaggi questo è molto completo perché credo abbia tutti i personaggi e soprattutto è in ottime condizioni questo libro ha 20 anni ragazzi ed è in ottime condizioni ha qualche piccola ammaccatura ma è perfetto mentre quelli su ebay erano anche abbastanza strappati quindi anche in questo caso super affare fatto su vintage ma non è ancora finita qui perché come vi dicevo quest'anno natale è il tema Harry Potter e quindi ecco qui che ho recuperato alcune decorazioni di natale di Primark anche queste comprate a un prezzo più basso rispetto a quello di rendita da Primark all'epoca perché li ho acquistati tutti e due per 5 euro evidentemente qualcuno che si era pentito del suo acquisto e quindi eccolo qui abbiamo Harry nel famoso stile che non mi piace questo con le teste tonde che non mi fa granché simpatia e poi abbiamo anche la mappa del malandrino qui in questa sorta di ceramica che poi non è ceramica e poi abbiamo anche quest'altro che invece ha altri due personaggi che sono Edvige e la valigia di Hogwarts quindi questi recuperati esiste anche quello con Hagrid e l'espresso per Hogwarts che purtroppo non ho ancora trovato su Vinted lo vendono su ebay ma costa tipo 20 euro quindi anche no tutta più che adesso qui a Catania tra qualche mese aprirà Primark sono già iniziati i lavori quindi non ho intenzione assolutamente di farmi derubare su ebay e sempre a tema Primark ho trovato anche queste sempre su Vinted che sono le palle di Natale con questi cosini all'interno questi ricciolini dorati all'interno anche questi delle quattro case abbiamo Grifondoro Corvo Nero Serpe Verde Tassorosso e sono molto carine voglio fare il mio albero rosso e dorato più o meno un po' in stile Grifondoro ma butterò a caso anche un po' di roba dentro poi ve lo farò vedere e non è ancora finita qui perché ho recuperato anche questa pallina qui del binario 9 3 quarti anche questa sempre di Primark pagata giusto un paio di euro e poi ne ho ancora un'altra che è questa qui la mia preferita questa qui parte con lo stemma di Hogwarts e tutti i glitter perlescenti all'interno anche questo molto molto carino qui non c'è scritto neanche il prezzo di Primark ma comunque anche questa l'ho pagata circa 5 euro quindi prezzo super super onesto questa addirittura è in vetro ed è arrivata imballata benissimo è arrivata integra ma c'è ancora un'ultima cosa che voglio farvi vedere una cosa che avevo sottovalutato mia colpa non l'ho mai neanche considerata l'avevo vista diverse volte su Amazon costa circa una quarantina di euro 40-45 dipende poi dai momenti si tratta della replica del cappello parlante io non l'avevo mai considerata mai acquistata ma devo dire che ragazzi ve la consiglio tantissimo io l'ho presa perché voglio utilizzarlo come puntale del mio albero di Natale ma lo aggiungerò alla mia collezione e adesso ve lo mostro ce l'ho qui accanto a me questo arriva dalla Francia e l'ho pagato tenetevi forte 20 euro incluse le spedizioni perché è venuto circa 16.50 il cappello e 3.50 le spedizioni eccolo qui ragazzi guardate con tanto di scatola originale abbiamo il cappello parlante elettronico questo se inseriamo le batterie parla e ragazzi secondo me è fighissimo eccolo qui lo togliamo guardate ha tutte queste fasce che penzolano davanti alla sua bocca guardate l'espressione del cappello parlante ditemi voi se non è uguale a quello del film ha tutte le sue top è davvero molto molto bello e all'interno è possibile inserire la batteria e si muove parla muove anche la punta e non l'ho ancora fatto perché non me ne frega niente però è molto molto carino è fatto molto bene l'ho pagato niente 20 euro una stupidata lo utilizzerò per metterlo sul puntale ma ditemi voi se non è un ottimo pezzo da aggiungere in collezione è davvero bellissimo è uguale a quello del film molto fedele a quello del film non credevo pensavo fosse più pelucioso più non lo so meno dettagliato ecco invece è molto dettagliato ben rifinito degno di essere un prodotto noble collection invece non lo è prodotto da un'altra azienda ma ragazzi davvero super super bello sono molto contento di averlo preso e lo andrò ad aggiungere alla mia collezione ragazzi come vedete sono totalmente dipendente da Vinted ci sono affari pazzeschi quindi mi raccomando scaricate l'app vi lascio il link sotto in info box e fatela scaricare ai vostri amici così vi daranno tanti buoni da spendere lì su Vinted in roba potteriana e ragazzi e poi è sempre bello vendere e acquistare roba usata perché diamo una seconda chance a tutte quelle cose che magari andrebbero a finire nell'immondizia detto questo fatemi sapere cosa ne pensate voi sotto nei commenti spero che il video vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia e ragazzi naturalmente noi ci vediamo presto con tantissime altre novità io non vi abbandonerò mai ciao 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 Grazie a tutti.